Se no la carne è già usita. E mi guarda storto e poi manta a caffè. Poi c'è giustamente. Sono Ancelone, mi sveglio al mattino e mi sono rotto di fare il postino. Di nuovo in sella al mio motorino, dalla signora ritorna a suonare. Trin trin, trin trin, sono Ancelone, scusi se la disturbo, sono il postino. Volca miseria, giuriamo militare, lei mi guarda male e poi manta a caffè. Questo è il postino. Non hai fatto il video, amico mio?